Dal 1970 la ditta Silva di Loreto produce calzature estive per uomo, donna, bambino e componenti per calzature. Ci impegniamo per una produzione che sia per il nostro benessere e per il bene del nostro pianeta. Le nostre ciabatte ed i nostri fusbetti infatti sono prodotti senza emissione di CO2 in atmosfera e sono biodegradabili. L'energia elettrica da noi utilizzata deriva da fonti rinnovabili, cioè dall'energia prodotta dal sole, fotovoltaico, ed i nostri prodotti vengono realizzati in PVC biodegradabile, cioè si degradano di oltre il 50% in 180 giorni, per poi degradarsi completamente in poco tempo. La particolare cura nella scelta dei materiali e degli accessori rende le nostre lavorazioni ricercate, affidabili e dal passo con i tempi. Tutte le materie prime usate sono in accordo con le recenti normative europee. Le nostre ciabatte sono confortevoli, lavabili, antibatteriche e antifungo. La linea di prodotti sanitari ha la particolarità di poter essere realizzata con vari tipi di sottopiede. FUSBET anatomico, lavabile, morbido e confortevole. Suoletta in sughero naturale. Sottopiede massaggiante per la stimolazione della circolazione del sangue. Sottopiede in vero legno marino e in vera pelle. La parte superiore, tomaia, è sempre regolabile con una o più fibbie o con velcro ed è realizzata con materiali di prima qualità ed in base alle ultime tendenze della moda. La nostra linea BioFashion comprende i più recenti modelli, infradito, sandalo, ciabatta. I fondi sono in vera pelle e sughero naturale. Il battistrada è in microporosa e le tomaie sono realizzate nei colori che seguono le ultime tendenze stagionali. Metallizzati, vernici e varie stampe fantasia. Realizziamo anche ciabatte anatomiche dotate di punti di riflessologia plantare. Questo particolare sottopiede stimola attraverso la normale camminata le aree più significative del nostro corpo. I FUSBET anatomici sono realizzati in vera pelle e sughero naturale. Seguono la naturale anatomia del piede, donandogli una posizione di assoluto comfort e relax. I fondi di zoccoli in polipropilene sono realizzati in vari modelli e colori e possono essere lavorati con varie rifiniture. Verniciatura, metallizzazione, spruzzatura e ceratura. Possiamo produrre anche articoli personalizzati grazie al supporto di un'officina interna che ci assicura celerità nella realizzazione di nuovi prototipi. Silva, benessere del piede, armonia del corpo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Silva, benessere del piede, armonia del corpo.